La Commissione ha deciso che gli aiuti di Stato, inclusi nella proposta britannica, per dare sussidio alla costruzione e al funzionamento di un nuovo centrale nucleare a Henkley Point è compatibile con il regime di aiuti di Stato. La decisione è il risultato di un'indagine approfondita nel progetto che era iniziata nel dicembre dello scorso anno e dopo le modifiche che le autorità hanno deciso di introdurre rispetto alla proposta originaria, la Commissione ha scoperto che gli aiuti statali non porteranno ad un'indebita distorsione della concorrenza nel mercato unico, dunque è compatibile con le regole di aiuti di Stato. Da quando è stata aperta l'indagine abbiamo svolto una consultazione molto ampia delle parti interessate, abbiamo analizzato in dettaglio le questioni sollevate e abbiamo negoziato con le autorità britanniche. La scelta di promuovere l'energia nucleare è una scelta britannica, questa scelta è di competenza nazionale, anzi addirittura rispetto all'articolo 194 del trattato, gli Stati membri sono liberi di determinare il loro mix energetico e qui noi non possiamo sostituirci agli Stati membri quando si tratta di scegliere un mix energetico. Ciò non di meno, visto che sono utilizzati i fondi pubblici, la Commissione deve verificare che questo sia in linea con le nostre norme sugli aiuti di Stato. Quando noi applichiamo le norme di aiuti statali lo scopo è quello di garantire che queste misure pubbliche non mettano a repentaglio la concorrenza nel mercato unico e parlando di investimenti in energia nucleare dobbiamo valutare ciascun caso specifico sulla base delle norme del trattato. Non vi sono orientamenti specifici che indicano come debba essere valutata la questione della Commissione, come alcuni di voi ricorderanno, avevamo deciso di non includere questa questione nelle nostre guidelines che sono state adottate nell'aprile scorso. La centrale Hinckley Point è un progetto molto ampio dal punto di vista del finanziamento e della produzione. Il costo totale corrisponderà a 34 miliardi di sterline e vi comprese 24,4 miliardi di sterline per la costruzione della centrale. La costruzione è prevista per 10 anni e l'impianto sarà operativo per 60 anni, producendo 3,3 gigawatt di elettricità, cioè 7% della capacità britannica. Abbiamo valutato tutto il processo e abbiamo diviso in due componenti. Innanzitutto una garanzia di Stato che copre qualsiasi debito dell'operatore quando cercherà di ottenere dai mercati di finanziare i finanziamenti, secondo un meccanismo di sostegno al prezzo che si chiama Contract for Difference che garantisce che gli operatori di Hinckley Point riceveranno un reddito stabile per 35 anni e pagato dai consumatori britannici. Il sostegno è la differenza tra il prezzo di mercato e quello che viene chiamato lo strike price, prezzo d'esercizio, stabilito per garantire un ritorno ragionevole sugli investimenti. Durante l'indagine le autorità britanniche ci hanno mostrato e ci hanno convinto del fatto che la costruzione di questa centrale non si può conseguire soltanto tramite le forze di mercato. Quindi c'è un rischio di deficienze di mercato in particolare perché il progetto non potrebbe raccogliere i finanziamenti necessari sul mercato per via della sua misura e della scala mai vista in precedente. La nostra valutazione si è poi concentrata sul punto seguente a vedere se gli aiuti statali previsti dalle autorità britanniche erano proporzionate all'obiettivo desiderato. Avevamo paura che queste misure di sostegno avrebbero generato distorsione, ma in seguito alle nostre discussioni il Regno Unito si è rito d'accordo nel modificare le misure di sostegno. Le modifiche sono le seguenti. Innanzitutto, il compenso che remunera la concessione dell'aiuto di Stato è stato aumentato significativamente per poter rispecchiare il profilo di rischio del progetto. Questo aumento ridurrà il sussidio di più di un miliardo di sterline, circa 1,3 miliardi di Euro, e questo ridurrà qualsiasi distorsione della concorrenza creata dagli aiuti e andrà a vantaggio anche dei contribuenti britannici. Per quanto riguarda il meccanismo di sostegno al prezzo, sono state aggiunte delle salvaguardie. Qualsiasi profitto più elevato, generato dal progetto, rispetto a quelle previste ad oggi, verranno condivise con i consumatori britannici e con i contribuenti britannici. È un meccanismo di partecipazione all'utile, di fatto, e sono stati messi in opera due meccanismi. Il primo meccanismo scatta se i costi di costruzione sono più bassi di quanto previsto, e l'altro meccanismo è se i profitti generali dell'operatore, cioè il ROE, l'inversione non equity, sono più elevati rispetto a quelli stimati oggi. Qualora ci siano redditività maggiore, questi utili verranno condivisi tra l'operatore e l'entità pubblica. Quindi questo è in linea con il prezzo pagato dall'entità pubblica all'operatore, quello che viene chiamato il strike price. Quindi più alto sarà il ritorno, più alto sarà la condivisione del consumatore. Per esempio un punto percentuale di aumento di redditività genererà risparmi di 1,2 miliardi, 1,5 miliardi di euro ai consumatori. La Commissione ha garantito che questo meccanismo sarà d'applicazione per tutta la durata del progetto, cioè 60 anni invece dei 35 anni originariamente previsti. Per riassumere, la nostra decisione garantisce che l'aiuto rimanga limitato a quanto necessario per portare a termine il progetto, minimizzando l'effetto di distorsione del sostegno pubblico e con una migliore opzione per i consumatori e i cittadini britannici. Possiamo dire dunque che le misure previste dal Regno Unito sono in linea con le norme europee. Questa decisione comunque non creerà nessun tipo di precedenti. Eventuali nuovi casi potranno essere valutati sulla base dei propri meriti individuali. Vorrei aggiungere un'ultima osservazione. né io né i miei colleghi questa mattina abbiamo discusso delle nostre preferenze politiche e personali circa le scelte di fonti energetiche. Il nostro dovere oggi era quello di applicare le norme di aiuti di Stato in maniera obiettiva e credo che siamo riusciti a farlo. Grazie. Il Presidente ora ascolterà le vostre domande. Indicate il nome e i media per cui lavorate.